Questo finalmente raggiunto per me è uno dei posti più spettacolari della storia del cinema ragazzi. Questo è il finto cimitero militare di Sedd Hill dove avviene il duello, anzi il triello, tra Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef per i 200.000 dollari che erano sepolti in una tomba che solo il biondo Clint Eastwood sapeva che è lì. E' la tomba con scritto unknown che stava accanto a quella di Arch Stanton che è quella. E allora Clint scrive il nome giusto su una pietra al centro. Eccola qua. E per guadagnarci questi soldi si sparano. Questa è la posizione di Clint Eastwood. Questa è quella di Lee Van Cleef E questa è quella di Eli Wallach Un posto spettacolare ragazzi. L'hanno restaurato nel 2015 poco prima è nata un'associazione in una cittadina qua vicino che si chiama Burgos sto nel nord della Spagna per restaurare questo posto che è stato usato da Sergio Leone nel 66 per girare questa scena fantastica Questa nel 66 era una valletta con una mandria di mucche Siccome i paesaggi qui sono molto simili a quelli dell'Arizona e del Nuovo Messico infatti non so se vedete qui tra parentesi c'è un grosso gruppo di avvoltoi che sta girando là sopra ma non non so se riesco a farli vedere il posto è stato restaurato perché questo pietrame era rimasto sotto il terreno il muretto non c'era più perché era stato smontato per riconsegnare la valletta però erano rimasti i bozzi delle delle tombe che sono mi sembra 4.000 circa e in questo luogo è stato fatto dal esercito spagnolo che ha prestato del servizio al di fuori dell'orario lavorativo a pagamento per poter realizzare questa scenografia ragazzi è è fantastica veramente fantastica mi porto a vedere dove stavano i 200.000 dollari e dove Clint Eastwood mette il cappio attaccato all'albero per metterci dentro la testa di Tuco ecco qua questa è la tomba di Arch Stanton e questa era la tomba dove stavano i soldi e tra parentesi nella tomba di Arch Stanton quando viene aperta da Clint Eastwood si vede uno scheletro e vi voglio dire un aneddoto quello scheletro non è finto quello è di una signora di Madrid che la figlia ha reso disponibili le spoglie della madre perché questa signora nell'atto testamentario aveva lasciato siccome lei aveva recitato in vita aveva lasciato detto che avrebbe voluto recitare anche da morta e quindi la figlia ha prestato le spoglie della madre perché venisse girata questa scena quindi lo scheletro che si vede nel film nella tomba di Arch Stanton è il vero scheletro di questa signora ragazzi il posto è veramente fantastico se penso che qui ci ha camminato Clint Eastwood e lì Wallach e lì Van Cleef spettacolare adesso vi saluto e me lo godo un pochino ciao ragazzi